Ciao a tutti e benvenuti. Non è la prima operazione di mercato degli ultimi anni che fanno il Milan e l'Eintracht di Francoforte. La prima risale alla fine dell'agosto del 2019, come ricorderete, con lo scambio di prestiti che si era capito subito che sarebbe poi diventato cammin facendo a titolo definitivo fra Andre Silva, da Milano a Francoforte, e Rebic, da Francoforte a Milano. È un'operazione che ha fruttato qualcosa di importante per entrambi i club, perché Andre Silva si è consolidato in Germania e ha fatto bene, ha recuperato posizioni, è risalito e la sua è stata una buona operazione da parte dell'Eintracht e il Milan si è ritrovato ante Rebic, che è uno dei giocatori che ha fatto gol nella parita che ha deciso il ritorno del Milan in Champions League, il 3-0 di Torino contro la Juventus, e che sta andando costantemente in doppia cifra a livello di gol da quando ha indossato la nostra maglia. Oggi invece è il turno di Jens-Pieter Auge. So che molti tifosi del Milan lo rimpiangono, la maggioranza dei tifosi del Milan lo rimpiange, probabilmente perché i tifosi rossoneri credono che non siano state esplorate definitivamente e totalmente le sue qualità prima di esprimersi. Questo è il giudizio dei tifosi rossoneri. Dall'altra c'è il giudizio di un club, di uno staff tecnico assolutamente sereni nei giudizi, assolutamente competenti, che ritengono che l'esplorazione comunque sarebbe finita, anche ci fosse stata in un certo modo, perché è vero che oggi tutti abbiamo negli occhi gli highlights dello splendido gol di Auge col Celtic a San Siro, della bellissima rete di Auge al San Paolo contro il Napoli, l'altra grande rete fatta a Praga contro lo Sparta. Ci sono questi gioielli incastonati nella presenza rossonera di Auge, però poi ci sono quelle partite invernali, quelle partite di gennaio e febbraio, nelle quali Enspeth, ricorderete, ha fatto fatica, era partito titolare spesso dal primo minuto, ma ci si accorgeva che contro certe squadre, ricordo Milani Uva a San Siro del campionato italiano, il nostro ragazzo faceva fatica. Di questo tema del passaggio di Auge al Eintracht si è scritto e si è parlato molto anche su OneFootball, che vi ricordo, vi segnalo, vi propongo, sostiene l'attività di questo canale YouTube. OneFootball è un grande brand con un grande sito, ma OneFootball è soprattutto una app dinamica connessa e gratuita. Scaricatela con tutti i suoi video e le partite, la app di OneFootball è gratuitamente dalla descrizione di questo video. Quindi si parla di prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, la sensazione è che le condizioni siano raggiungibili e la sensazione è che Auge vada nello stesso ambiente in cui è andato Andre Silva, un ambiente solido, un ambiente serio, un club tedesco che sa recuperare questo tipo di giocatori, perché anche Rebic era stato recuperato dall'Eintracht. Ricorderete Rebic e le sue esperienze italiane erano state così così, le prime, Fiorentina, Verona, all'Eintracht si è rigenerato, si è riproposto, è andato ai mondiali del 2018, ha fatto bene con la Croazia. La stessa cosa è accaduta ad Andre Silva, Andre Silva noi è stato abbastanza massacrato, è stato preso a simbolo di una campagna acquisti di una dirigenza che è stata subito messa nel mirino da qualcuno, Andre Silva non ha avuto tempo, carattere particolare, Andre Silva è un ragazzo, un bel ragazzo, nato bene, elegante, insomma lui le cose o arrivano da sole o non se le va a grattare dai muri, è una caratteristica, ognuno fa quello che gli è naturale, gli viene naturale fare. Giudicato abbastanza presto è andato all'Eintracht, si è ripreso e sta facendo bene, l'Eintracht è soddisfatto delle sue prestazioni. Che cosa accadrà con Aug? Io penso che Aug farà bene in Germania, mi sembra un calcio adatto a lui, mi sembra che la sua educazione, la sua professionalità, anche l'esperienza di Milano. Anche Paquetà aveva fatto, noi dobbiamo prendere atto del fatto che certe alchimie, certe chimiche, certe scintille, anche se i giocatori ci piacciono, se non scoccano poi non c'è più niente da fare. Anche Paquetà l'abbiamo ceduto bene e a Lione ha fatto bene, quindi può essere che Aug, anzi è molto probabile che Aug e faccia bene, ma quello che fa l'Eintracht tu non sai se è in grado di rifarlo al Milano a Milano. Quindi questo è un po' il tema che propongo alla riflessione di tutti voi. Leggo con il comunicato ufficiale di oggi che dall'agosto del 2020 il Milano ha aperto 20 nuove partnership con 20 nuovi brand commerciali e ha rinnovato 8 partnership. dall'agosto 2020, con gli stadi vuoti, in un clima di pandemia, in un clima di crisi economica generale. È vero che non sono arrivate cifre astronomiche, ma intanto è la dimostrazione che si lavora, intanto è la dimostrazione che sono tutti contratti che aprono orizzonti, sono tutti contratti che dimostrano come ci siano dei brand. Nessuno oggi ha cifre astronomiche, da mettere nella sponsorizzazione di una società di calcio, nella partnership con una società di calcio, però quel poco anche magari che si ha, quel poco medio che si ha, lo si mette sul Milano. Quindi che il Milano sia un brand che sta dimostrando di essere in grado di rifiorire, che il Milano sia in questo momento un progetto al quale si lavora seriamente, pancia a terra, con tante mani, con tante professionalità, con tante competenze, è confermato da queste cifre. Perché 20 nuovi brand che fanno parte della Galassia Milan e 8 rinnovi di partnership sono comunque una realtà. Poi per carità non compreremo messi, ma sono una realtà, sono la dimostrazione di un club che continua a guardare in avanti, che continua ad aprire nuove iniziative. E questo è un fatto che ci dobbiamo tenere stretti, perché oggi vengono investiti sul Milano i soldi che ci sono in tempi di pandemia, domani o dopo domani, quando, viva Dio, usciremo definitivamente da questo incubo e ci saranno un po' più di soldi in giro, si tornerà e si continuare a investire sul Milano, anche nel frattempo farà di tutto per proseguire il suo cammino. Quindi questo è un fatto, è un fatto credo importante. Abbiamo parlato questa mattina di Ibra, non ho nulla da aggiungere a quello che ci siamo detti stamattina, Messi è arrivato a Parigi, ieri Donnarumma ha parlato di Messi, e buon per lui, buon per lui, buon per il Paris Saint-Cermain. Io sono orgoglioso di come Mike Mignon stia interpretando il ruolo del portiere milanista. Non penso a rigore parato a Bale, anche se aiuta, anche se fa buona stampa, se fa buon clima e quindi consente di prepararsi al meglio e con tranquillità, senza pressione, alle prossime partite che sono quelle che contano. però mi piacciono gli occhi di Mignon. Me li avevano segnalati come gli occhi di un ragazzo che si illuminava al pensiero di venire al Milan. Oggi vedo in campo gli occhi di un ragazzo orgoglioso che si batte, che strepita coi compagni, che ci tiene, che la squadra faccia bene e che è ferito quando c'è un'occasione da gol a favore degli avversari o quando succede qualcosa che non va bene. Quindi come presenza di spirito, come voglia, come determinazione, come intensità, possiamo fino a questo momento, per quel che si può, prima di Ferragosto, essere contenti dell'inserimento di Mike Mignon. Poi è certo, il suo libro è tutto da scrivere, non me lo nascondo e so bene che quando arriva poi la stagione tosta e dura tutte le prospettive cambiano, ma la forza, la determinazione, oserei dire la ferocia con cui indossa la nostra magna, con cui si è messo al centro della nostra difesa Mignon, mi lascia molto molto bene sperare. È arrivato un uomo in porta e speriamo che quest'uomo ci dia soddisfazioni importanti. Ciao a tutti, ci vediamo domani mattina per la Rassegna Stampa.